Valeria Battista, 23 gennaio 2001, acquario, banda schiacciatrice 2, 42, piercing 1, perché mi piace lo stile un po' ribelle diciamo, diciamo pregi, entusiasta, difetti un po' permalosa a volte, anzi molto spesso. Liceo delle scienze umane attuali, invece futuri scienze politiche all'università, matematica, inglese. Allora diciamo che quando ero piccola facevo sia danza che pallavolo e diciamo che è stata mia amma a vedermi molto più tendente verso la pallavolo, cioè mi interessava di più, ero sempre un po' più felice di farla rispetto alla danza e quindi ho deciso di continuare su questa strada e è andata bene. Per me adesso diciamo che è proprio una vera e propria professione, cioè la prendo molto seriamente e spero che possa continuare ad essere la mia professione. Allora ho iniziato col mini volley, se possiamo definire, sì, quando avevo sei anni e era più un modo per passare i pomeriggi, diciamo, poi ho continuato e siamo qui. Era la squadretta del paese, diciamo, dell'oratorio di Villa D'Adda, poi sono passata al New Volley di Cisano e in Under 13 in Foppa, proprio diretti. Da attacco? Non lo so, boh in diagonale penso, parallela. È un onore perché sono poche da ragazze che possano, diciamo, affrontare questo tipo di percorso e la prendo come una grande opportunità per potermi migliorare tecnicamente, essendo appunto questo un progetto tecnico, quindi sì, per me il Capitale è un miglioramento personale, sia dal punto di vista tecnico che come persona, diciamo, perché vivendo in un contesto così bisogna saper seguire delle regole e diciamo che sbagliando si impara quello che sto facendo. Preferisco dormire, a dire il vero. Se proprio devo scegliere la musica, sì, mi piace. Non lo so, cioè io da sempre ho sempre un po' seguito Miriam Silla, che vabbè, nonostante l'età giovane, mi è sempre piaciuta caratterialmente, quindi tento di ispirarmi, tra virgolette a lei. Poi l'anno scorso ho avuto modo di giocarci insieme e ho apprezzato. C'è un onore, ma anche una responsabilità perché comunque vado a rappresentare quella che è la mia nazione. Quindi è molto bello giocarci, cioè avendoci addosso, ma allo stesso tempo devo rispettarla e onorarla, c'è un dovere indossarla, per cui questo. Vabbè, spero di continuare a giocare a padavolo, ovviamente, magari di boh, vivere, cioè essere un po' più indipendente, assolutamente, più indipendente da adesso. Diciamo che spero di aver vinto, innanzitutto qualcosa di importante, ovviamente, e spero di non aver rimpianti, diciamo, cioè di essermela goduta al massimo tutti gli anni di esperienza pallavolistica e poter dare anche consigli in futuro, magari finita la mia carriera, a chi è più giovane e, diciamo, come dire, comunque rendermi utile in futuro. No, magari non l'allenante riceverò.